ok, abbiamo visto la volta scorsa come mettere una texture su un oggetto blender davanti e dietro, fare l'unwrap abbiamo visto l'unwrap su una UV texture e adesso si tratta di mettere un po' tutto insieme e fare lo scrut per second life vedremo che anche qui ci sono un po' di trucchi ricordate che comunque in questo caso nel caso del piatto, la parte centrale del piatto che è questa qua verrà sempre male quindi conviene partire, farsi una ragione e accettare di avere un buco in mezzo e comunque accettare di rifarsi il piatto praticamente, farsi un cilindro al centro del piatto perché altrimenti tutta questa zona qua apparirà comunque fatta male e quindi noi ripeteremo quindi lo sculpt del piatto verrà sempre fatto con due prim comunque cominciamo col prim elementare allora noi siamo al piatto in cui abbiamo messo la nostra UV texture quello che dobbiamo fare è aggiungere un materiale qui dobbiamo andare nella modalità qui la chiamiamo ombreggiatura F5 vedete che qui non ci sono materiali noi aggiungiamo un nuovo materiale all'oggetto aggiungendo un nuovo materiale si aggiungono una serie di informazioni che a noi interessano relativamente poco possono anche essere chiuse quello che ci interessa è la texture quindi aggiungiamo una nuova texture al materiale questa texture sarà una texture un po' particolare perché sarà la texture calcolata che ci permetterà finalmente poi di produrre lo sculpted quindi aggiungiamo questa texture si chiama Tex per prendere l'immagine dal disco dobbiamo andare qua nelle pulsanti la texture F6 e dirgli che la texture è un'immagine e poi associare la texture dell'immagine al famoso Daisy Plate questo qui il piatto che vogliamo fare ok quindi la texture adesso è caricata nel materiale ma abbiamo detto che questa texture deve essere taroccata quindi deve essere agganciata all'immagine UVWrap per ottenere questo dobbiamo tornare nei nostri pulsanti materiali questi e da dove abbiamo specificato la texture diciamo che il map input sarà un UV e la UVA qui agganciata è la UVTex famosa ecco nel momento in cui abbiamo inserito la UVTexture è a posto e dobbiamo soltanto renderizzarla sull'oggetto quindi bisogna che noi torniamo allora torniamo alla nostra rappresentazione classica dobbiamo avere attivato ecco questo è il piccolo trucco abbiamo attivato la texture qui invece dello Sculpting vedete che deve venire lo Sculpting che in questo caso da me è rettangolare dobbiamo fare il backing di questa cosa su un'immagine che adesso non c'è vedete qui c'è l'immagine vuota quindi dobbiamo creargli un'immagine nuova con una risoluzione abbastanza elevata perché la massima possibile per Second Life è 1024 quindi prendiamo questa immagine vedete che c'è riapplicato sopra in sintesi la UVMap dello Sculpting perché noi vogliamo proiettare quell'immagine che abbiamo fatto prima e adagiarla sullo Sculpting creato dobbiamo aver selezionato tutto e se tutto va bene e qui c'è sempre un attimo di preghiera in modo edit avendo selezionato tutto possiamo tentare di fare Bake Render Meshes e poi provare a fare solo texture ecco questa operazione è andata bene perché so che è andata bene? perché ci ha impiegato abbastanza poco questo primo trucco e perché soprattutto la risoluzione che mi ha dato è soddisfacente quindi ho ottenuto un'immagine qua che è esattamente quello che voglio allora questa immagine la salviamo facciamo la salva salva come e ce la salviamo nel nostro ecco suggerisco di chiamare questa immagine sotto Blender la chiamiamo piatto texture quindi ad esempio questa immagine ho salvato il nome piatto texture 3 jpeg il formato dell'immagine in questo caso è meglio che sia un formato un po' compresso perché queste immagini se sono un megabyte quindi targa sono abbastanza grosse quindi un'immagine 1024 abbastanza grosse se volete che il vostro sculpted si carichi almeno come l'immagine abbastanza velocemente caricatela come jpeg invece abbiamo salvato prima il piatto sculpted 3 come un TGA vedete che il TGA comunque per immagine piccole quella di prima l'abbiamo fatta 64x64 pixel è abbastanza piccola quindi in pratica sono molto piccole fatto questo siamo già pronti per portare il tutto in Second Life allora eccoci in Second Life e quello che vedete è il risultato di cosa poi produrremo vedete che nell'inventory abbiamo le tre texture fondamentali che ci serviranno queste tre texture sono una per lo sculpted una per la UV map e una con l'immagine originale perché abbiamo detto che dobbiamo produrre fare un piccolo trucco perché la parte centrale del piatto non verrebbe quindi costruiamo un cubo inizialmente eccolo qui su questo cubo diciamo che è uno sculpted nello sculpted gli mettiamo lo sculpted che abbiamo ottenuto ok quindi abbiamo questo punto il il nostro piatto ecco qua il piatto a questo punto dobbiamo agganciarsi alla texola del piatto e qui si vede subito il difetto ecco il difetto che vi dicevo qui vedete che qui la zona centrale del piatto appare fatta male quindi per riuscire a ovviare questo difetto l'unica cosa che rimane da fare è quella di fare un cerchio molto fine e metterci sopra la texola originale in modo tale da evitare queste sbavature che vedete che si producono nelle parti polari del piatto ecco vedete adesso vi ho saltato alcuni passi ma quello che ho fatto è sotto quello di creare un cilindro tini questo se non sapete come fare ve lo posso poi passare questo cilindro molto sottile l'ho fatto di dimensioni adatte in modo tale che fosse sovrapponibile alla parte centrale del piatto sopra ci ho applicato la texture questa la daisy plate originale gliel'ho reapplicata in modo tale che fosse esattamente identica a quella sotto ho giocato un po' con le dimensioni quindi con l'amplificazione orizzontale e verticale e anche un po' con la rotazione in modo tale che questa figura fosse proprio esattamente coincidente con quella sotto dopodiché a questo punto semplicemente posso prendere questo oggetto vedete che ecco e lo metto nel piatto finché non è non è praticamente indistinguibile dal piatto devo avere le stesse coordinate quindi lo ruoto in modo tale che sia adeguato qui ci va un attimo di building ma il risultato finale poi è che possiamo avere il nostro piatto fatto quindi con questi trucchi abbiamo il purtroppo in quando registro non riesco molto a far scorrere i tasti su Second Life quindi dovete immaginare la visualizzazione comunque l'obiettivo è stato realizzato e quindi abbiamo fatto il nostro piatto per ulteriori dettagli eccetera contattatemi se avete dei problemi se non riuscite a fare lo sculpt e via discorrendo possiamo fare ancora una lezione su questo argomento per il momento vi saluto arrivederci ciao grazie